Bene, vediamo oggi la seconda parte del ciclo di tre lezioni sulla genesi, sull'origine del concetto di gravitazione universale e riassumiamo velocissimamente quanto abbiamo visto nella prima parte. Abbiamo già visto che in epoca antica si era già trovata sulla base dell'analisi di testi dell'epoca, appunto testi antichi, sia in latino che di autori greci, che l'umanità aveva già trovato risposte a diverse domande importanti che fanno parte del nostro modo di vedere il mondo, in particolare la forma della Terra, che è una sfera dovuta prima da Nassimandro, poi ai Pitagorici, la misura della Terra, effettuata da Eratostene nel terzo secolo a.C., ma ancora più importante, secondo me, è l'interpretazione della misura, cioè del perché la Terra è una sfera, in base a quale principio fisico e Archimede ha dimostrato che la Terra, che è un liquido autogravitante, è in equilibrio solo se ha forma sferica. Altro punto fondamentale, il sistema di riferimento, cioè la Terra è ferma o si muove. Abbiamo già visto che Aristarco ha assunto come modello, come ipotesi di partenza che la Terra fosse in moto per spiegare in modo semplice la retrogradazione planetaria, essenzialmente, e Seleuco invece ha dimostrato che fisicamente la Terra è in moto, sfruttando la teoria delle maree, che poi verrà ripresa da Galileo. Una sistemazione dinamica, una teoria coerente che inglobasse questi fatti e che quindi è la base anche della nostra dinamica, probabilmente era inclusa nell'opera di Parco che ahimè è andata perduta, ma della quale ci sono indizi, scriviamoli così, su testi e commentatori che ne hanno riferito le conclusioni e i punti fondamentali. Non solo, ma abbiamo già visto che in Plutarco e in Seleuco abbiamo già trovato, e anche in Lucrezio, l'idea che in realtà tutti i corpi attirano tutti gli altri corpi, cioè dell'universalità dell'interazione gravitazionale tra corpi celesti diversi. Un punto chiave, che però vedremo meglio la prossima volta, è quello della sfera delle stelle fisse, per la quale mancando l'idea che la Terra al centro dell'universo e tutto il mondo le gira attorno, non c'è più motivo di ipotizzare che tutte le stelle fossero alla stessa distanza, e già Gemino, che era un divulgatore in realtà nel primo secolo a.C., dice che in realtà la sfera delle stelle fisse è un'utile convenzione, c'è qualcosa di fittizia che non è reale, le stelle sono a distanze diverse da noi, ma sembrano proiettate in cielo alla stessa distanza. Tutti questi risultati, ahimè, vanno perduti, vengono dimenticati, a causa essenzialmente della conquista romana, fanno parte del prodotto di una cultura che è quella elenistica, che ha dato enorme impulso alla ricerca scientifica, anzi, secondo il lavoro del professor Lucio Russo, la scienza nasce ad Alessandria nel III secolo a.C., noi l'abbiamo riscoperta. Con la battaglia di Azio, ma in realtà ben prima nel 165 a.C., con la distruzione di Cartagine e la conquista della Grecia, Roma diventa padrone del Mediterraneo e cosa fa? Deporta a Roma tutti gli studiosi, perché siano istruttori dei loro figli e perché contribuiscono a costruire opere di interesse pubblico e civile a Roma. E quindi al Museo di Alessandria è ben emesso come direttore un militare, un soldato, per cui a lui che gli studi continuassero non poteva importarli anni e di meno. E molti di questi libri vengono portati al di fuori dell'Egitto, essenzialmente verso l'Oriente, nell'area Mesopotamica, e contribuiscono a quella che poi, diversi secoli più tardi, sarà l'epoca d'oro della scienza invece islamica, del mondo arabo. Vi ricordo che la prima università al mondo è stata fondata a Baghdad nel fine dell'VIII secolo dopo Cristo. E torna in Europa, ah sì qui scusate, dopo la conquista romana, più o meno di quest'epoca, questo è l'epoca di Iparco, Iparco è l'ultimo grande astronomo dell'antichità che può si chiamarsi tale, questo è un istogramma dove vengono riportate il numero dell'osservazione astronomica, in funzione del tempo. Questa è l'epoca di Iparco, questa è l'epoca di Ptolemeo, Ptolemeo, quindi 200 anni dopo, e per 200 anni nessuno si interessa più di osservare il cielo. Quindi per 200 anni la ricerca scientifica viene fermata. Immaginate se adesso per 200 anni nessuno si occupasse più di ricerca scientifica. Tra 200 anni non capiremo più niente, non saremo più in grado, ma neanche di guardare i disegni che facevano nella nostra epoca. Diventerebbe qualcosa di impersfruttabile, di inintellegibile. Claudio Ptolemeo recupera un pochino della scienza antica, ma ad esempio torna al modello geocentrico. Non riesce ad afferrare il vantaggio del modello geocentrico, non solo, ma non si pone minimamente le domande sul perché la Terra è tonda. Lo riferisce che la Terra è una sfera, ma non discute assolutamente il perché. E per esempio usa solamente rette e cerche nella sua geometria, non concepisce tutte le curve coniche, che pure sono state studiate ampiamente, perché erano troppo difficili per lui. Sul volo, su tutto il periodo della scienza araba, ripeto, passiamo direttamente al come dopo la scienza dell'antichità è tornata in Europa ed ha influenzato l'evoluzione del pensiero, non solo scientifico e europeo. Ci sono diverse date importanti, forse la prima è, voi che avete fatto sicuramente storia della Spagna, sapete del fenomeno della reconquista in cui il futuro europeo riprende possesso del territorio della penisola iberica, una data importante il 25 maggio 1085 in cui era il consul sesto di Castiglia, che prima si era arrivato alleato con l'emiro di Cordoba, poi lo tradisce, in realtà riesce a sfruttare questo alleato per conquistare Toledo. Toledo che è stato per moltissimi secoli la capitale della Spagna, la capitale reale e anche culturale della Spagna, e vi trova un tesoro immenso, un'immensa biblioteca di testi ovviamente in arabo e anziché incendiare tutto, decide di chiamare a Toledo i più eminenti studiosi dell'Europa, in particolare il padre Gerardo da Cremona, che comincia a tradurre dall'arabo in latino i testi che trova e quindi per l'Europa cominciano a girare idee nuove, trovano per esempio gli elementi di Euclidi che in realtà saranno tradotti dall'arabo in latino in Inghilterra da Delardo di Basso, però quasi cent'anni dopo, 1120. Viene tradotto l'El Magesto, che va a fagiolo perché ben si colloca nella visione cristiana dell'universo, la terra centro dell'universo, la sfera delle stelle fisse e tutto quanto il resto, e quindi viene accettato la cultura dell'epoca. E la geografia di Tolomeo che è ugualmente importante, perché fino a quell'epoca non esistevano i viaggi in alto mare, tutti i viaggi ne erano fatti sotto costa, perché? Perché essere ignorato l'uso delle coordinate geografiche. L'epoca delle grandi esplorazioni nasce proprio perché c'è un recupero della geografia antica, della geografia matematica, del modo in cui un capitano di nave riesce a fare il punto nave, cioè a stabilire dove si trova nella determinata carta geografica, questa cosa che senza la quale non è possibile intraprendere nessun viaggio per mare, lontano dalla costa voglio dire. Un altro fatto importante è il negativo ahimè, Costantinopoli o Bisanzio o Istanbul come chiamarlo adesso, subisce il primo grave saccheggio della sua storia proprio d'opera dei crociati nel 1204. Istanbul, Costantinopoli era un posto dove i testi da Alessandria erano stati trasportati in gran quantità e il saccheggio dei crociati distrugge gran parte di quello che vi si trovava allora, quindi molti testi vanno perduti anche in questa case. Sempre relativamente a Costantinopoli un dato importante è la sua caduta in mano ottomana, l'impero ottomano prende il processo di Costantinopoli attorno al 1453 e causano, anche in epoca presente, causano una bella propria fuga di cervelli, cioè le persone di cultura che conoscevano, temevano l'invasione ottomana, si trasferiscono da Costantinopoli a Venezia e da Firenze e portano con sé dei libri, libri in massima parte legati a copie e manoscritti che erano copie di opere antiche e portano con sé non solo i testi ma anche l'abilità di leggerli, perché sono scritti in greco antico oppure in latino. La tradizione italiana dei licei dove si studiano lingue classiche nasce da lì e in particolare per esempio uno dei testi più importanti è quello sull'iconica di Apollone di Perga che viene pubblicato a Venezia per la prima volta nel 1537. Quindi questi dei nove cominciano a girare per l'Europa e influenzano tutto il pensiero europeo, tutta la sua storia, non solo in ambito scientifico. Uno dei personaggi importanti in questa storia è sicuramente Luigi Robacone o Roger Bacon se preferite, il quale, attenzione, vive il contemporaneo di Dante per esempio, quando lui muore Dante ha circa una trentina d'anni. E' il primo che si interessa a, che cita o quanto meno, l'effetto dell'importanza del sole nel muovere i pianeti con la distanza, dice ne fa il paragone con la luce. Una lampadina, un oggetto luminoso che distribuisce la sua luce attorno in una direzione sferica, quindi in tutte le direzioni, ha un effetto che diminuisce, cioè la luminosità diminuisce con l'inverso del quadrato della distanza, proprio perché la luce si diluisce lungo una sfera la cui superficie va come era la seconda. E questo è un punto importante, perché poi viene ripreso più volte. Un'altra cosa, un suo scritto importante secondo me è questo, anche se non è del tutto pertinente alla storia, ma mi preme indicarvelo per farvi capire che tipo di personaggio era. Lui in questo scritto che è dei segreti bus operi, bus astris e zantura, cioè sull'opera segrete della natura e delle arti, vede i nostri treni, vede gli aerei, vede le navi, dice arriveremo, in realtà questa traduzione non è del tutto corretta, la traduzione corretta sarebbe si può fare, si può costruire macchine capaci di spingere navi a velocità più forti che un'intera serie di rimatori e che necessitano solo di un pilota che le diriga. Costruiremo carri che arrivano a incredibile velocità senza l'aiuto di alcun animale, non ce l'ha più bisogno della trazione animale, ma andranno con qualche motore, con qualche meccanismo e inoltre si costruiranno macchine che in grado di volare e di sollevarsi in aglia come gli uccelli. Inoltre cita la possibilità più avanti anche di andare ad esplorare il fondo del mare utilizzando delle tute speciali e questo tra l'altro c'è anche in un romanzo di epoca ellenistica scritto sulla vita di Alessandro Magno, in cui c'è questo tizio che riferisce che Alessandro Magno aveva utilizzato questa tuta per esplorare il fondo del mare. E come ha fatto a vedere queste cose? Evidentemente non può essere se le immaginate del tutto, molte di queste sono meccanismi già descritti dai licenziati ellenistici, quindi lui avrà visto qualche fonte che noi ormai ignoriamo, come i disegni di Leonardo da Vinci. La tecnologia, soprattutto la metallurgia all'epoca di Leonardo, erano talmente indietro, talmente rudimentali, che era impossibile costruire ciò che Leonardo ha disegnato. Leonardo probabilmente ha visto qualche opera ellenistica in cui invece si costruivano per esempio delle pompe a tenuta perfetta, delle catapulte ad aria compressa, che sono descritte da Roma di Alessandro, quindi avranno visto sicuramente qualche fonte che noi ormai è andata perduta, in cui ha immaginato, anzi ha immaginato, ha visto che queste cose erano state già descritte. Un altro personaggio importante che utilizza i nuovi testi tradotti in latino che girano per l'Europa è sicuramente Copernico, uno dei più grandi astronomi dell'epoca rinascimentale, il quale a quell'epoca per studiare bene si veniva in Italia. Adesso noi andiamo in Inghilterra, andiamo negli Stati Uniti, all'epoca si veniva in Italia per imparare. Copernico dalla Polonia viene a studiare a Bologna, a Ferrara e a Padova. Questa foto che avete qua sotto è la lapide che c'è, la scritta che c'è sulla destra della cattedrale di Ferrara, uscendo, trovate un edificio dove, riferiscono che in quel edificio lì Copernico ha ricevuto la laulia in legge, attenzione, in diritto canonico. E lì trova, a Bologna, a Ferrara, trova gli scritti antichi, dice io mi sono sempre chiesto come mai non si capisce, quello che insegnava una scuola, diceva una cosa, ma le osservazioni dicono un'altra, perché il sistema geocentrico non funziona, è possibile che nessuno abbia mai capito come fanno i pianeti a girare in cielo in quel modo invece che in un'altra. E quindi lui non riscopre, ma riscopre il modello heliocentrico. E questa è la lettera dedicatoria in cui lui presenta il suo testo al Papa e lui dice appunto, mi sono sempre chiesto come mai nessuno abbia capito questo tipo di fenomeno, mi sono andato a cercare testi che riferissero di studi antichi o precedenti riguardo all'argomento e ho cominciato a trovarli. E dice, ho trovato per esempio che qualcuno nell'antichità diceva che non era la terra ferma al centro dell'universo, ma era il sole e il raggiato a terra ci gira attorno. Qui cita Cicerone che riferisce di Cetta che era un pitagorico e Plutarco e anche Sennico. E quindi imbattutomi in questo e ci ho cominciato a pensarlo anch'io e ci ho lavorato su, ci ho lavorato su per circa vent'anni. Ma si vedeva contro delle potere dirompente di questa idea, che era contro i detami della Chiesa, lui essendo un ecclesiastico avrebbe avuto queste diverse difficoltà. E ha ritardato la pubblicazione del libro fino al periodo in cui ormai non poteva più fare altro perché stava per morire. Il giorno mi hanno portato la prima stampa, la prima edizione del suo libro sul letto di morte, ma sarebbe morto di lì a poco. E lui cita appunto, questa è nella lettera in cui manda il suo libro al Papa, dice che lui ha trovato questa idea, non l'ha inventata lui, si è mai attribuito a se stesso il sistema heliocentrico. Il sistema copernicano è copernicano per modo di dire. In realtà è il sistema aristarchiano, dovremmo chiamarlo. Un altro personaggio infoportante, un altro astronomo, forse il maggior astronomo tra Copernico e Newton, è questo Ismael Bouillaud, in francese, il quale vuole, in questa sua opera, astronomia filolaica, ricostruire l'astronomia dell'epoca di Pitagora. E afferma che l'attrazione tra i corpi del sistema solare si avviene mediante un'azione che è inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. In realtà prende lo spunto da una critica che muove a Kepler, in cui Kepler è convinto che la forza spinga il pianeta lungo la sua stessa traiettoria, mentre noi sappiamo che adesso la forza è perpendicolare circa la traiettoria, e dice che se fosse legata alla traiettoria andrebbe come l'inverso della distanza, perché anche se le forze delle orbite fossero circolari, la lunghezza della circonferenza è proporzionale alla distanza, quindi più lontano sono, più la forza è diluita lungo la circonferenza, quindi diminuisce con l'inverso della distanza. E Buglio dice che in realtà non è così, perché la forza è distribuita su una sfera, quindi va in tutte le direzioni, per cui decresce con l'inverso del quadrato della distanza, riprendendo quello che diceva Roger Bacon qualche secolo prima. Ed è uno dei pochi che viene citato e ringraziato da Newton, Newton riconosce il lavoro di Buglio. Newton cita pochissimi antichi, cita questo Buglio e anche un astronomo italiano, che non è Galilei. Galilei riprende il problema in mano del perché, per esempio non mi accorgo che la terra ruota, e inizia a costruire la nuova dinamica, cioè la nuova teoria che rende conto di questo fatto, introducendo uno dei principi base che abbiamo visto quando abbiamo studiato le forze, il principio di inerzia, che in realtà è una ripresa, una rivizzazione di un, dell'analogo principio sull'effetto dell'annullare, per esempio l'effetto dell'attrito su un corpo in moto, su un piano, che era già stata studiata ampiamente dai meccanici alessandrini, da Erone di Alessandria per esempio, e dai loro contemporanei. Riprende il concetto di moto relativo, fa l'esempio delle navi che in realtà era già presente in Lucrezio, è stato citato, e sostiene in questo il sistema eliocentrico, anche perché utilizzando il cannocchiale, è in grado di osservare, ok grazie, i satelliti di Giove, e quindi vede un altro sistema simile al sistema solare di satelliti che girano attorno a Giove, se tutto girasse attorno alla Terra dice questo non avrei potuto vederlo. Infine sfrutta il fenomeno delle maree in un'opera che nella sua versione originale doveva chiamarsi sui flussi e sui riflussi del mare, quindi sulle maree, ma il cardinale, suo amico, dice guarda che se tu usi questo per dimostrare fisicamente che la Terra si muove, la sua acquisizione ti stronca, non te lo perdoneranno mai, è meglio che cambi il titolo, che cambia argomento, infatti diventa discorso sui due massimi sistemi, che è articolato in diverse giornate, le maree sono appena citate nella quarta giornata, dove cita un antico matematico che aveva già studiato le maree e le aveva usate per dimostrare il moto della Terra, che è Seleuco, però lui non cita mai il nome, che è molto bravo a scrivere, ma non riconosce quasi mai gli autori di idee che lui in realtà riprende. Poco dopo il sistema geocentrico di Copernico viene migliorato perché l'idea base di Copernico è sì, la Terra si muove attorno al sole, ma si muove sui traiettori circolari e questo è un piccolo miglioramento, una semplificazione dal punto di vista formale, ma in realtà anche quello non funziona, perché le tra le orbite non sono circolari. La pubblicazione nel 1543 dell'opera sulle coniche di Apollone di Perga rende possibile utilizzare curve che non sono più solo circonferenze, ma sono anche iperboli, parabole, bellissime, soprattutto. E questo, il testo viene studiato da Keplero e viene utilizzato per analizzare il tipo di orbita dei pianeti. Se non è una circonferenza, che l'altra curva è? Keplero si dimostra, verifica che sulla base dei dati astronomici che aveva a sua disposizione, che sfruttava quelli di Cobrache, un'immensa mole di dati, che le orbite sono invece delle ellissi, ma lo può fare solo perché ha nel suo bagaglio culturale un testo sulle ellissi che prima non c'era, cioè non era pubblicato in Europa, pubblicato solo dopo che è stato tradotto in parte dall'arabo, il trattato sulle coniche di Apollone di Perga è in nove libri, quattro sono arrivati in greco, quattro in arabo e uno è perduto, probabilmente l'ultimo che era quello più importante è andato perduto. E pubblica tre leggi sulle moto dei pianeti in diverse epoche. Le leggi sono sintetizzabili molto semplicemente in questo modo, la prima dice che le orbite dei pianeti sono delle ellissi, che abbiamo già studiato nello scorsi anni, uno dei due fuochi dell'ellissi è occupato dal Sole. Ciascun pianeta quindi si muove attorno al Sole su un'ellisse, ma la percorre a velocità variabile. In che modo è variabile? Beh, se uno congiunge il Sole col pianeta, immagina un raggio che vada sul pianeta, questo raggio copre aree uguali in tempi uguali, quindi quando è più lontano percorre una specie di triangoloide e affinché l'area sia la stessa, è sufficiente che la base sia piccola, quindi quando è lontano è più lento, mentre quando è più vicino l'altezza del triangoloide è più corta, per cui per coprire la stessa area deve fare un percorso più lungo, quindi è più veloce. Quindi più vicino è il pianeta al Sole, più velocemente si muove. La seconda legge quindi riferisce del fatto che le aree sono percorse a velocità diverse, a seconda della distanza. Le prime due leggi sono riferite alle proprietà dell'orbita di ciascun pianeta, mentre la terza legge confronto a orbite diverse. Dice più lontano il pianeta si trova dal Sole, più lentamente va. In che proporzione? Beh, il periodo dell'orbita elevato alla seconda potenza è proporzionale al cubo del raggio di rivoluzione. Questa è la relazione che lega distanza media dal Sole e tempi di percorrenza dell'orbita. Si pone quindi un problema. Perché i pianeti si muovono in questo modo? Che posto che, ok, le orbite non sono più delle elissime, delle circonvenze, ma sono delle elisse percorsi in quel modo e con quella regola di rallentamento man mano che si è lontana dal Sole, un processo così importante va interpretato, va spiegato, va capito, ha trovato il meccanismo che sta alla base di questo processo. Ci provano in diversi. Ah, Borrelli si chiamava, scusate, ecco, l'astronomo italiano che è citato da Newton si chiamava Borrelli. Anche Borrelli ci prova, ma si ferma a un certo punto. Un altro importante che ci prova è Robert Hooke, quello della legge sull'elasticità, il quale costruisce un sistema del mondo e sa e sfrutta, perché a quell'epoca non era, non era un'invenzione di Newton, ripeto, il fatto che la gravitazione andasse come l'inverso del quadrato della distanza, usa quella legge, ma non è in grado di utilizzarla per dimostrare fattivamente che questa può interpretare le orbite dei pianeti. Qui ci riesce Newton, il quale introduce la forza di attrazione della gravitazione universale, ma non dice mai che l'ha inventata lui. Lui la attribuisce a quella che chiama gli antichi. Il sole, dice, i pianeti del nostro sistema, secondo il pensiero degli antichi, sono reciprocamente gravi, cioè si attirano l'un l'altro e per la forza di gravità, se non ci fosse quella, se ci fosse solo la forza di gravità, cadrebbero uno con l'altro. Ma questo l'avevamo già detto, l'avevamo già letto in Lucrezio e in Seneca. E Newton ha nella sua biblioteca tutti questi testi antichi, Cicerone, Plutarco, Seneca, Plinio, Vitruvio, ce li ha tutti, quindi li ha letti tutti molto attentamente. E infatti molti dei suoi brani non sono altro che la copiatura, tra virgolette, ovviamente adattata, ovviamente completata, di idee di quell'epoca. Infatti sembrano proprio una copia dell'altra. Un dato importante è il fatto che Newton commenta in questo modo questo brano, è preso non dai principi che lui rimaneggerà, ma dai commenti ai principi, da quelli che vengono chiamati scoli classici. Questi scoli classici, questi manoscritti di Newton, viene trovato e pubblicato da uno studioso italiano, Paolo Casini, nel 1981. Fino a quell'epoca erano ignoti, per cui non si capiva da dove Newton avesse preso quest'idea, quale fosse stato il suo percorso per arrivare alla gravitazione universale. Perché questo è rimasto nei suoi manoscritti non pubblicati, tra un attimo vediamo il perché, fino a quell'epoca lì. Un altro punto importante è che Newton attribuisce la forma della legge di gravitazione universale ai pitagorici, perché non dice mai questa legge l'ho inventata io. Un fatto importante, oltre a questo, è il fatto di come si comporta un corpo soggetto a una forza perpendicolare alla sua traiettoria, la forza centripeta per esempio, e questo è dovuto ad Huygens, che aiutano. Huygens e Newton erano rivali, per esempio, per quanto riguarda la teoria sulla natura della luce. Era molto difficile andare d'accordo con Newton, era una persona molto difficile, molto dura. L'effetto di una forza perpendicolare alla traiettoria della forza centripeta è studiato e la nostra accelerazione centripeta, come la conosciamo adesso, è stata introdotta da Huygens, però anche lui è arrivato a un pelo dal capire la gravitazione universale, ma non ce l'ha fatta. Il merito è senz'altro tutto di Newton. Questo è quello che abbiamo detto fino ad adesso. Newton è un personaggio piuttosto particolare, una persona che ha avuto una vita difficile. Quando è nato il padre era morto da qualche mese perché c'era la guerra civile tra il Parlamento e il Re. In uno scontro armato il padre muore, la madre lo abbandona, lo lascia dai nonni, va a risposarsi e va ad abitare da un'altra parte. Ha una vita molto dura durante i primi anni di scuola, però il suo maestro e soprattutto il precettore si accorgono con una persona molto brillante e convincono i suoi parenti a mandare all'università. Però erano persone, stavano bene, insomma erano medi, media nobiltà terriera e Newton per pagarsi all'università va a Cambridge, deve lavorare e il suo primo incarico all'università è quello di rifare i letti e di rimettere a posto la biblioteca. Quando molti anni dopo morirà, Voltaire, il filosofo francese Voltaire che va ad assistere al suo funerale, commenta dicendo questo è il funerale di un re. Si riserva questo tipo di cerimonia a un re d'Inghilterra. Quindi questa è una persona che grazie alla sua intelligenza, grazie alla sua tenacia, è passato da dover rifare i letti e rimettere a posto i libri di biblioteca a livello di un monarca inglese, infatti adesso è sepolto nell'abbazia di Westminster in centro a Londra. La sua opera principale, non è l'unica ma la principale, è il principio matematica e filosofia naturalis che scrive con lo scopo di interpretare tutti i moti in cielo ed in terra. Ed è probabilmente l'opera scientifica più grande mai scritta, più importante mai scritta ed è stata scritta in latino. Cosa pensava Newton di se stesso? Dice io sono come un bambino che sta davanti al mare, sulla spiaggia e si diverte perché è emozionato dal fatto che ha trovato dei sassi particolarmente colorati, mentre gli sta davanti l'oceano immenso, infinito, con immensi tesori che lui neanche immagina. Quindi era perfettamente consapevole del fatto che il suo era solo un piccolo passo, fondamentale, ma un piccolo passo verso qualcosa di infinitamente più vasto. Però senza quel passo noi adesso non avremo quello che abbiamo, adesso non vivremo in questo modo. La sua opera è la chiave per interpretare tutti i moti. E come diceva Einstein, niente succede senza qualcosa si muove e quindi è la chiave di volta. Come è fatto il principio? È un libro diviso in tre parti. Nel primo libro si occupa dei moti celesti, poi del moto nei fluidi e nel terzo delle leggi generali del moto, cioè quali sono i meccanismi che regolano tutti i moti. Li abbiamo già visti a suo tempo, la legge di inerzia, la legge fondamentale della meccanica e la legge di azione e reazione. Come è possibile in base a questi tre semplici meccanismi, con la legge della realizzazione universale, interpretare il moto di tutti i corpi, in particolare dei pianeti? Beh, facciamo un piccolo passetto. Mettiamo insieme la relazione che lega la forza di attrazione e di gravitazione con la distanza, va come uno su R quadro, e la relazione che lega l'accelerazione al centripeta con la velocità di un oggetto e il raggio della sua orbita. Se inseriamo queste due grandesse all'interno della legge, del secondo principio della dinamica, che cosa possiamo dire? Beh, la gravitazione, se approssimiamo l'orbita come circolare, gioca il ruolo di forza centripeta. Quindi al posto dell'accelerazione, nella seconda legge della dinamica, possiamo mettere la velocità del quadrato diviso il raggio della circonferenza. Ma la velocità è 2πr su t, t periodo dell'orbita. Quindi, includendo la terza legge di Keplero, il cubo del raggio è proporzionale al quadrato dei tempi, otteniamo che la legge di gravazione universale, cioè la legge con cui il Sole attira la Terra oppure la Terra attira la Luna, va come l'inverso del quadrato della distanza, o se preferite all'inverso, da f è proporzionale a 1 su R quadro, ottengo la terza legge di Keplero, cioè sono equivalenti. La terza legge di Keplero mi permette di dire che la forza di interazione necessariamente deve andare come 1 su R quadro. Ok? E qui, utilizzando che il terzo principio della dinamica, si riesce ad arrivare alla formulazione della legge di gravitazione universale come fu proposta da Newton, però, ripeto, lui ci è arrivato rielaborando da qualcosa che lui non attribuisce a se stesso, ma che ha preso da fonti molto molto più antiche della sua epoca. Questa è un'altra formulazione. Quali sono le conseguenze? Possiamo mettere alla prova questa teoria? Beh, la prima conseguenza, considerata da Newton stesso, nei suoi principi, è questa. Immaginate di usare il raggio di orbita lunare. Questo era già stato misurato da Iparco nel secondo secolo avanti Cristo. Il periodo dell'orbita lunare, equivalentemente, è il raggio della Terra. D'accordo? Se consideriamo l'orbita circolare per la prima approssimazione della Luna attorno alla Terra, che cosa vediamo? Beh, calcoliamo l'accelerazione come accelerazione di centripetra di quadro su R, R, L, cioè il raggio dell'orbita lunare. E troviamo 2,7 per 10 alla meno 3 metri al secondo quadrato. Questo è un calcolo che i contemporanei di Newton erano sicuramente in grado di fare perché avevano tutti i dati a loro disposizione. Ok? Quello che si chiede Newton è, ok, se l'accelerazione gravitazionale della Luna è quella, immaginando che un corpo simile alla Luna, cioè in orbita circolare attorno alla Terra, gravitasse non alla distanza della Luna, ma sulla superficie terrestre, quale sarebbe la sua accelerazione? Beh, utilizzando il fatto che l'accelerazione va come 1 su R quadro, quindi il prodotto accelerazione per distanza al quadrato è lo stesso, posso facilmente calcolare l'accelerazione che avrebbe un corpo sulla superficie terrestre. E cosa trovo? Trovo l'accelerazione di gravità in 9,8 metri al secondo quadrato. Anche questo dato era noto alla sua epoca, è stato misurato in lungo e in largo. Ma quindi cosa significa questo? Significa che la stessa forza responsabile del moto della Luna è la stessa che fa sì che i corpi cadano sulla superficie della Terra con una determinata gravità, in determinata accelerazione. Quindi è lo stesso meccanismo che fa cadere la famosa mela dall'albero e che tiene la Luna in moto a quella adattata distanza dalla Terra. E' così la stessa che fa muovere l'intero sistema solare. in base a questo quindi sì, il passo successivo è dire, beh ok, ma in realtà l'orbita dei pianeti non è circolare. Posso ricavare il fatto che l'orbita è ellittica usando in generale la legge di gravitazione universale? La risposta è sì. E Newton l'ha fatto utilizzando la geometria essenzialmente, però ha costruito una matematica alta a fare questo in molto meno tempo. La lettura dei principi è una lettura molto difficile. Un premio Nobel come Richard Feynman ha detto, io l'ho letto molte volte, ma a un certo punto ho dovuto fermarmi perché non si capiva più come Newton andava avanti. Il ragionamento era difficile. E lui l'ha reinterpretato in una che secondo me è la più bella lezione di fisica mai tenuta in epoca moderna, 13 marzo 1964, ridà una lezione ai suoi studenti a fine corso, una lezione gratis, solo per il piacere di farla, era extraesami, in cui ripercorre il percorso che ha fatto da Newton con la sua interpretazione. C'è qui al fianco il testo, il libro, che è un libricino grande così, che è tratto proprio da quella lezione. Qual è l'idea chiave? Attenzione stiamo entrando nella mente di Newton, noi entriamo nella mente di un genio, di uno che ha cambiato la storia dell'umanità. Ok, la forza con cui i corpi si attraggono l'un l'altro è fatta così e agisce sempre, in ogni istante. Immaginiamo per un istante, cioè semplifichiamoci il problema, immaginando che la forza agisca per impulsi, cioè in istanti particolari. Quindi semplifichiamo la traiettoria studiandola per piccoli intervalli di tempo, sufficientemente piccoli per cui poi la ricostruzione globale sia affidabile. E quindi la intende come una forza impulsiva, per cui frammenta la traiettoria dei pianeti in tanti piccoli tratti rettilinei, per esempio da A a B non agisce la forza, poi in B agisce, devia il pianeta e lo fa andare anziché in C piccolo, che è qua sopra, va in C grande. Ok? E così via. In questo modo riesce ad approssimare quella che in realtà è una traiettoria curva continua con una spezzata che dimostra essere un'ellisse. Quindi semplificandosi il problema riesce a raggiungere un risultato generale. Questo però fa appello a un metodo, anche questo è antico, dovuto prima a Eudorso e dopo ad Archimede, cioè quello che abbiamo visto la volta scorsa con l'introduzione all'analisi. Posso calcolare ad esempio l'area di una superficie curva, approssimandola come una spezzata con un infinito numero di lati. Quindi facendo tendere questi frammenti di tempo dove la forza agisce con cerebelli sempre più piccoli, ma sempre più ravvicinati, posso costruire abbastanza fedelmente, poi in realtà fedelmente quanto voglio basta che aumento il numero di lati, alla traiettoria reale. Questa è una foto del manoscritto originario di Newton nel suo testo, che ricopre il disegno di prima. Quindi prendo la tecnica che si usa, una tecnica approssimata, cioè si frammenta il moto in tanti piccoli intervallini, mi dicono che ho poco tempo, quindi vanno un po' più veloce. Si può fare per esempio, oggi la possiamo fare utilizzando il computer, si può usare un foglio di calcolo, io ho usato per esempio calco o excel, però non ho l'animazione, meglio usare una simulazione del computer. Qui dentro avete il programma che ho scritto, posto per questa lezione, che riproduce la forza di gravazione universale con due componenti, quindi le lavoriamo in un piano, e qui c'è l'esito della simulazione. L'ho aperta, vediamo di andare un po' più avanti e di accelerare. Ecco, qui c'è il sole, la terra, questa della terra si muove solo per effetto della forza di gravitazione del sole, ok? In verde c'è evidenziata la sua traiettoria, quindi fa una traiettoria curva che è chiusa, anche questo è un risultato non da poco, non scontato, e poi la traiettoria si chiude, e poi ho inserito un comando che confronta la tua traiettoria con quella che dovrebbe essere se fosse un'elisse. Come vedete è facile verificare, quei puntolini rossi sono quelli dove avrebbe dovuto passare la terra se la traiettoria fosse un'elisse, c'è un accordo praticamente perfetto. Quindi questa è una, tra virgolette, verifica numerica, ok? L'ultimo invece l'ha fatto con teorica e in generale con la geometria, che interpreta la prima legge di Keplero, cioè le orbite dei pianeti, in particolare qui quella della terra, è un'elisse e il sole è uno dei fuochi. In cui non ho il modo dettuto analico si riesco a interpretare anche le altre leggi. Quindi abbiamo trovato uno stesso meccanismo che unisce ciò che succede in cielo e ciò che succede in terra, la forza di gravitazione. Perché Newton non mette nei principi a il riconoscimento quanto fatto prima di lui. Lo spiega in una versione che era la prima versione dei Principia, in cui dice io avevo scritto un libro di tipo divulgativo in modo tale che lo potessero leggere tutti. Queste sono parole di Newton, tradotte ovviamente, ma di Newton. Poi ci ho ripensato, perché Newton si scocciava a dare spiegazioni, non era molto, non succediva al suo agio con la polemica o con il dibattito, tra virgolette. E quindi dicevo, poi io ce l'ho ripensato e ho tolto tutte le cose, tra virgolette, che facilitavano la lettura e ho messo, ho scritto un libro che poteva essere letto solo dagli esperti, in modo tale che chi capiva, capiva già che funzionava, non dovevo stare a spiegarlo diecimila volte. Ok? Per questo motivo non ha scritto mai nei principi, non ci sono i commenti, i commenti sono a parte, sono rimasti in manoscritto e poi sono stati ritrovati, come abbiamo visto prima, nel 1981 e pubblicati da Casini. Voltaire che legge il Principia, ok? E legge, va sul generale di Newton, quindi segue molto Newton, dice che si incarica di, scrive i principi di filosofia newtoniana, di rendere il contenuto di Newton aggredibile o accessibile ai più, a chi non è esperto, perché dice che i ragionamenti che fa Newton sono abbastanza difficili, bisogna portarli alla luce. E una delle spiegazioni che Newton propone per l'idea del Principia è quella che è l'idea della mela, l'idea della mela viene messa da Voltaire nell'Encicopedia, ok? Perché? Perché legge il manoscritto di un biografo di Newton, un certo Stuckley, pubblicato a Londra, da Biblioteca di Londra nel 2010, mi pare, adesso è accessibile, e qui questo Stuckley va a casa di Newton e Newton dice che lui mi ha raccontato che una volta sotto era uscito per passeggiare e si è messo sotto il mela e gli ha caduto la mela in testa in questo modo, ma in realtà questa è una storia che Newton racconta per togliersi di torno a uno scocciatore, perché in realtà questa storia non sta in piedi, ok? In realtà la spiegazione del comi del buteridea era negli scoli, nei manoscritti che sono stati trovati molto dopo, ok? Quindi siamo alla conclusione di questa parte e una delle idee chiave della nostra visione del cosmo quindi ha una storia molto lunga, che non è finita con Newton, ci sono ancora farsi importanti che vedremo la prossima volta. La leggenda della mela è una leggenda basata su una lettera reale scritta dal biografo, ma il quale aveva avuto questa spiegazione per tra virgolette tagliare corto, ok? In realtà la storia è molto più unica, è molto più affascinante, è molto più interessante, però oggi ci fermiamo qua, grazie dell'attenzione.